31 agosto 2014 ci troviamo esattamente a via malta incrocio con piazza gravina come potete vedere si continua ovviamente andate qua con l'immondizia l'inciviltà e oggi è domenica sono più o meno le 10 e 20 guardate qua guardate qua avete visto anche le fotografie su facebook che mi ha mandato quella signora a via d'abono a quarto ciccolo che cosa ci stava ed è stato tolto guardate qua segnalerò anche questo portoghese francesco sempre a disposizione per i cittadini di bar di città